I vari settori che stiamo rafforzando, la chirurgia protesica e la traumatologia dello sport in particolare, i mezzi diagnostici ci sono, le tacche, le risonanze, le ecografie, i medici capaci di affrontare il problema ci sono, l'attività chirurgica è molto intensa e direi anche qualificata. Dobbiamo solo perfezionare i percorsi di diagnosi, di cura, verso queste patologie che non possono lasciare dubbi, un atleta non può stare settimane a capire se deve essere data una risposta pronta, di livello e in linea con le esperienze cliniche diffuse e con la letteratura scientifica. È molto forte lo spirito nostro di volerci adeguare, i mezzi li abbiamo senza particolari difficoltà di spesa perché non esiste neanche spesa dovendo usare i strumenti che abbiamo già in dotazione.